Buonasera, saluti, bentrovati. A giudicare dal gusto di pubblico il tuo stand, diciamo così, tra virgolette, è già un progetto. La tartara di... Allora, abbiamo una tartara di manzo di cibo parni, con della maionese di peperone arrostito, un pomodorino del pietolo confì, cotto per due ore in porno a 140 gradi, abbiamo del tuorlo d'uovo soto, un cappero di pantelleria e dell'acenda di parmigiano con nocciola vesone. Cappatì, ma questa fantasia da dove nasce? Per risolvere quale dirige? Ma innanzitutto questo filo possiamo dare come antipasto, poi ho trovato il fornitore giusto, il cibo parni, che è il maestro... E si torna a maneggiare la tartara, che è una carne frutta che fa impastata... Soprattutto abbiamo utilizzato tutti i prodotti del nostro territorio. Il sapore di peperone arrostito, il sapore di pomodoro, è eccezionale. Grazie. Auguri a quattro mesi.